Ciao a tutti ragazzi e bentornati nell'unica serie di GTA Online con si fanno sprechi Infatti oggi è uscita la nuova macchina, è uscito anche a quanto pare Adesso vado a controllare il nuovo garage, custom come cazzo si chiama Che molto custom non è Aaaaaah, benissimo, vedi che essere utente di GTA Plus serve a qualcosa Perché me lo regalano, quindi ci saranno anche altri vantaggi per GTA Plus probabilmente Sto arrivando eh, sto arrivando, dammi tutto Così almeno mi risparmi un sacco di soldi perché oggi ne devo spendere parecchie e non ne ho, è quello il fatto Allora vediamo un po' cosa costa, ah non costa niente Beh questo è troppo scuro, veramente dovevano illuminarlo molto di più perché è troppo esagerato Immacolato non lo so, industriale, magari industriale, vediamo così Oh, così mi piace, rosso Uh, benissimo, i led rossi mi piacciono, quindi acquista e non costa niente Bene così Il presidente di questo MC vuole reclutarti, aspetta che, aspetta ragazzi Suggeritemi entro con, con quel coso di Ah sì corcazzo Eh, non c'è nient'altro per chi ha GTA Plus Per chi paga il cash area No, non c'è nient'altro Va bene, non fa niente Comunque io vi ricordo prima di cominciare che se non volete trovarvi nella mia stessa situazione Non avendo soldi Potete scrivermi per un boost di denaro oppure visitare il mio sito qui sotto in descrizione Aggiunte di denaro per tutte le piattaforme Direi che noi adesso invece possiamo andare a fare giusto una vendita per arrotondare qualche spicciolo Perché oggi si dà il caso che dobbiamo arrivare appunto a 2 milioni e 100 mila dollari Per la nuova Pantir Allora ci saranno le casse di Gerald Tra l'altro le Daily Stash Houses Che si possono raidare per guadagnare qualche soldo tipo E ci stanno anche le rapine e i negozietti hanno messo Sarà possibile trovare dei rapinatori che stanno appunto Rapinando I negozi sono che sono rapinatori Noi dobbiamo fermarli per o restituire il bottino oppure tenercelo in saccoccia Perfetto possiamo vendere quindi andiamo Speriamo di beccare qualcosa di buono Se non becco qualcosa di buono gioco di merda bastardo Già che non devo vendere un cavolo di niente 140 mila dollari arriverò a 200 mila con il bonus Ti prego ti prego dammi qual Dimmi che è solo da consegnarlo una volta per favore Sì benissimo e dai Oh e tra l'altro in questo periodo escono tanti video dedicati agli abbonati Se vi interessa la mia guida per capire come guadagnare velocemente In due soli episodi partendo a fare milioni link qui sotto Quanta roba sto spammando in questo video ragazzi Mi sento quasi uno youtuber normale Altra cosa che hanno fatto comunque in background ragazzi Hanno finalmente patchato la cazzo di godomod che era anche Si vai sulla luna vai Se guardi bene qua sotto sta scritto spacex da qualche parte Dunque siamo arrivati dicevamo finalmente hanno patchato quella merdaccia di glitch Finalmente almeno gli sfigati di merda che lo facevano resteranno con la bocca asciutta Ok allora 220.000 dollari va bene più di quanto mi aspettassi Abbiamo in totale se mi fai vedere i soldi che so grazie di non farmelo vedere Puoi vendere il prodotto agli spacciatori che bello Non ho niente Allora dicevamo abbiamo un milione e otto Ah più di quanto avevo previsto Perfetto allora io direi di andare al Cosacco per fare Sì sì messo giù proprio diretto Istintivamente a chiunque mi stesse chiamando Facciamo sto cazzo di colpa Caio Perico Allora io qua c'ho tutto impostato Per fare appunto la speedrun Quindi non so se effettivamente posso farlo in maniera stelta Adesso vado un attimo a controllare Perché per fare la speedrun serve avere l'esplosivo E entrare dalla porta principale Potrei provare a farlo ma mi distruggono tipo vediamo Eh servirebbe la torcia a gas Posso farlo lo stesso però me la rischio Ma va bene a noi il rischio piace Ok vediamo un po' il guadagno Va bene 792.000 dollari ci sta Ok allora ragazzi È il momento di comprarci Sta nuova macchina Tra l'altro c'è anche una macchina interessante Al casino Che potremo provare a vincere Ma intanto intanto Vai compro Sì Perfetto La mettiamo ovviamente nel nuovo garage Che cercheremo di riempire in Mai Guarda qua sta merda Sto pattume L'ho comprata Tipo nello scorso episodio mi sembra Ma sì Ma si vende Oggi si vende per Un bene superiore Ok Quanto mi dai per starò Eh ma solo Così poco davvero 600.000 dollari Te credo fa schifo È un pattume Orribile Va bene vendila Che te devo dire Non mi bastano neanche i soldi Eh non so che dirti Di vendere qualcuna Qualcun altro Eh no no Quello mi scusate Mi sono confuso Col mondo reale No di vendere qualcos'altro Di vendere qualcos'altro Ne ho la minima intenzione Andiamo a prendere la Pantir E Modifichiamola Che cavolo ti devo dire Eccola qua In tutto il suo splendore Una delle macchine Più belle Uscite ultimamente Se non fosse per i fari davanti Che insomma Non è che mi ispirino Più di tanto Questi qui Però ci sta va bene Li accettiamo È un compromesso A cui scendere A patte Vabbè avete capito Insomma Dovrebbero essere i fendinebbia Tra l'altro penso Comunque Mio brother Me la modificherai Molto bene adesso Se non sbaglio Questa Però non è in realtà Così tanto ottima Come prestazioni Me la ricordo Abbastanza pesante Se non mi sbaglio Da Dalle prove Che ho fatto Tempo addietro Quando ancora Non era uscita Magari mi sbaglio Ripeto Adesso lo scopriremo Che cosa ci mettiamo Va bene Metti da corsa Poi Va bene questo Marmitte doppie Va bene Tanto Quello che posso mettere Perché Non è che io possa mettere Chissà cosa Vediamo un po' Oh Questa mi piace Va bene Cofani Non lo so In realtà Posso anche non mettere niente Quelli più belli Ovviamente Non li posso mettere Sedili Ma guarda Me ne frega un cazzo E non si vedono Quindi va bene così Motivazione Molto onesta Il fatto che Non si vedano Che cosa Ah Tundra Questa Ok Poi c'è il tricolore Francese No 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 Per carità Poi abbiamo Altre cose Mimetica Mmm No non mi ispira Striscia bianca Striscia bianca potrebbe essere carina Se no Bisogna prima capire il colore Che voglio metterci Mettiamo intanto Da strada cromate qua Le targhe Anche qui bisogna capire Prima come voglio verniciarla Vediamo un po' Verniciature Camaleonte Ovviamente Uh Questa starebbe molto bene Se no Che alternativa abbiamo Ah Questa è bella Eh Allora Allora Qua bisogna capire Bisogna Analizzare E comprendere Azzurro perla O verde blu Cangiante Mmm No no questo Questo mi piace Questo mi piace Poi colore secondario Ovviamente Non cambio un cazzo Dove cazzo Ah è qua davanti Oh si 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 Metti Pago 23 mila dollari Però Allora voglio Vediamo Arancione Viola Cangiante Potrebbe stare bene Se no Azzurro perla Pure ci sta bene Si sembra abbia Ah i denti Capito Se no Blu perla No sembra Più che altro Che abbia Sapete Mangiato qualcosa Quelle robe che ti rendono La bocca blu Non mi piace Quindi mettiamo Ma si arancione Dai mi piace Poi dopo di che Ma se io il cofano Lo metto dell'altro colore Del colore seconda Colore 2 No 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 Si confonde troppo Non fa abbastanza contrasto Finestrini Va bene Mettili Le ruote Pensiamo un attimo Alle ruote Allora quelle da circuito Vediamo un po' Quali ci stanno bene Allora a me piacciono Sempre queste Un sacco Le super lusso Se no ci sono anche Le 5 alto Altrimenti Qualcosa di diverso Che non ho mai messo Vediamo un po' Queste non le posso mettere Quindi niente Mi sa che metterò Le super lusso No 5 alto Va bene Va bene Poi Qua pensiamo A cosa mettere Potrei mettere qualcosa Che stia bene Però Non lo so Perché tanto Lo stesso colore Che ho messo qua davanti Non lo trovo Di sicuro Fare tre colori Mi sembra un po' Un esagerato Nero Dai Nero va benissimo Gomme antiproiettile Ovviamente Sto finendo i soldi Ovviamente si Beh non tanto In realtà Ho speso 200.000 dollari Il turbo Non posso metterlo Trasmissione va bene Sospensioni Va bene Spoiler Vediamo un po' Niente Sono tutti esagerati Mamma mia Tutti troppo esagerati No 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 Grazie Questa va bene Minigonne Mettici qualcosa Di leggero Sempre che faccia Un po' Di contrasto E poi Vendi Opzioni Proprio da non guardare GT colore 1 Mi va benissimo E qua Siamo a posto Pensiamo alle targhe Adesso Non so Forse lasciarla così Va anche bene Nera anche Ci sta bene In realtà Sì sì Va bene Giallo su nero Perfetto E poi Da strada in carbone In realtà sta bene Ok ragazzi Vediamo la rivrea Adesso Dunque Oh questa potrebbe stare Molto bene Se no Non è che abbiamo Tante altre alternative Questa troppo semplice Vediamo Questa No 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 Grazie O questa Che è semplice Appunto Oppure quella Che avevamo visto prima Questa qui Vediamo Velocità disegnata Si chiama Va bene Metti questa E dai che ci siamo Ok Andiamola a provare un attimo Sentiamo Un po' il sound Vediamo un po' Che cosa ci dice Allora Va bene Ci sta Mi piace Ok Bene Partiamo Vediamo un po' Se me la ricordavo bene Se è effettivamente pesante Come me la ricordavo Sì Penso di sì Decisamente Verifichiamo Verifichiamo un po' Correndo Allora forse Non così tanto In realtà Comunque è buona Ottime prestazioni Tanto mi anticiperanno Eeeh Sì Vai anche tu Sulla luna Perfetto Continua Continua Spacca tutto Grazie Ok Sicuramente mi anticiperanno E mi correggeranno I vari youtubers Che fanno Speed test Insomma fanno Quelle cose lì Quei test lì Però per il momento Mi sembra Abbastanza buona E anche resistente Devo dire No non è Non è così pesante Come me la ricordavo Dai ci sta Mi piace Mi piace Veramente ottima Come macchina Bella Non costa neanche Esageratamente Visti i prezzi Dell'ultimo periodo E credo che Me la terrò Spoiler Magari la vendo Al prossimo episodio Vai Continua a schiantarti Dimostra Che le mie abilità Di guida Non hanno Che da peggiorare Nei prossimi anni No in realtà È il fatto che Non vedo un cazzo Visto che è notte C'ho le luci puntate E quindi Faccio del mio meglio Non capendo Assolutamente niente Beh ragazzi Completamente Soddisfatto Dell'acquisto Comunque Non male Veramente non male Vediamo Facciamo sta curva Che è sempre Molto Preoccupante Soprattutto nelle vendite Del bunker No tiene bene Devo dire Non è così pesante Come me la ricordavo C'è da dire Che essendo una sportiva Potrebbe anche essere Tra le migliori Di GT Online Tra le più veloci Ricordandovi che La paria che è sportiva È rimasta per tanto tempo Una delle più veloci Di GT Online Detto questo Io vi ringrazio molto Per avermi seguito Finora E noi ci rivediamo Alla prossima